Qui è il comandante del volo AMX 3303. Leggo quanto segue. John Templar dovrà trovarsi tra un'ora da adesso alla pista di decollo di Quay Lake Sky Park con il libro. E dovrà essere solo. Se questo non avverrà, tra un'ora verrà ucciso il primo passeggero. Passo e chiudo. Angelo di Donna. Un cognome e una garanzia? Sai perché? Perché le donne sono più precise degli uomini. E tu sei stato precisissimo. Hai seguito pedissequamente tutte le mie direttive che hanno dato di te un bel professionista, ma soprattutto hanno dato corpo al comandante, il personaggio che tu fai in life. Senti Angelo, io non posso che complimentarmi perché come sempre l'impegno alla fine premia il risultato. E tu sei stato veramente in gamba. Grazie Angelo e grazie soprattutto per essere nel cast di Life. Grazie e grazie a te Alex. Sono felicissimo di far parte di questo fantastico cast. Lo ripeto, ti ringrazio davvero tanto, tantissimo per avermi dato questa possibilità bellissima. E hai visto che insieme ce l'abbiamo fatta? Life, il primo film senza immagini. La realizzazione di una colonna audio dove l'immaginazione è la grande protagonista in grado di proiettare ciò che non vedrai. Pensavo questo di te l'altra sera e sono stato tentato di chiamarti. Film senza immagini perché l'emozione la vivi ascoltando. Cosa stai facendo? Fammi uscire! Life, con le voci più famose che hai conosciuto al cinema e in tv. Vede John, io ci sono già passato per situazioni come questa. Mi dispiace ma io non mi fermerò. Life, il primo film senza immagini. Chiudi gli occhi e vedrai.